Eh sì, vi sentivo parlare, prima avete citato inglese Pellissier come due attaccanti che possono far male in qualsiasi momento. Vi ho portato Pellissier. Cosa sta accadendo a questo Chievo? Tre sconfitte consecutive con questa? Insomma, qualcosa non va? Beh, indubbiamente perdere fa capire che c'è qualcosa che non quadra. Indubbiamente non lo sappiamo, sennò avremmo già risolto il problema. È un periodo negativo, nel calcio ci sono in un campionato lungo come questo, ci sono sempre i periodi negativi e quelli positivi. Purtroppo noi siamo in quello negativo e non ne riusciamo a cavare niente, però la volontà, l'esperienza, anche perché sono tanti ragazzi di esperienza, sanno che purtroppo questo è il calcio, quindi bisogna rimboccarsi in maniche e già pensare dalla prossima di riuscire a risolvere questi problemi. Merito anche del Benevento, al di là del periodo negativo del Chievo? Il Benevento indubbiamente ha fatto bene più di una partita, non è sicuramente solo questo. È stato sfortunato finora, ha trovato una squadra che è più sfortunata in questo momento di loro e sono riuscito a portare a casa il risultato. Ma credo che non fosse solamente questa partita che stesse facendo bene, ma è da più partita, ha perso tantissime partite nel novantesimo. Quindi era sfortunato. Adesso siamo un po' più noi. Grazie a tutti.